Il direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, Luciano Sammarone, a 72 ore dalla morte dell'Orsa Amarena, uccisa a colpi di fucile a San Benedetto dei Marsi nella notte del 31 agosto, ha rilasciato stamani una dichiarazione per fare il punto sulle ricerche dei due cuccioli. E la prima volta, ha detto Sammarone, che affrontiamo una situazione del genere, non era mai stata uccisa una mamma orsa con i cuccioli nella storia del parco. Esiste un protocollo per il recupero dei piccoli, ma non era finora mai stato attivato. C'è differenza tra il dire e il fare. Ieri abbiamo avvistato un solo cucciolo, stiamo cercando di capire ora se sia sempre lo stesso oppure sono i due fratelli divisi. Per la vicenda, accusato del reato a 544 bis del codice penale, lo ricordiamo, rimane indagato. Il 56enne del posto, Andrea Leombruni.